Il Paradiso delle Signore Sette, le anticipazioni dell'ultima puntata. L'ultima puntata del Paradiso delle Signore Sette andrà in onda venerdì 5 maggio. Marcello, tornato a Milano, ha una sorpresa per Salvatore. Ha pagato tutte le cambiali, quindi i due non hanno più debiti con Riccardo. Salvatore è molto contento e vuole festeggiare. È così felice che chiede ad Elvira di uscire. Finalmente ha messo da parte le sue paure. Se la vita di Salvatore sta andando meglio, non si può dire lo stesso per Barbieri. Infatti, tornato a Milano, scopre che Ludovica si è sposata con Torre Bruna. Se mai nella prossima stagione ci dovesse essere una relazione tra i due, questa volta sarebbero amanti clandestini, proprio come Riccardo e Nicoletta. Marco avrà un confronto con Roberto, con il quale si chiarisce. Ricordiamo, infatti, che negli episodi precedenti, sempre in onda questa settimana, Marco aveva accusato Roberto di essere un traditore, dopo aver scoperto il suo segreto. Dopo aver chiarito con i Landi, si rega da Gemma e le confessa i suoi sentimenti. È innamorato di lei. A questo punto Gemma, sicura che Marco vuole stare con lei perché la ama e non per senso del dovere, gli dice la verità, ovvero che il figlio che aspetta è il suo. Riguardo a Vittorio, appena ha scoperto qualcosa su Tancredi e non sa se rivelare la verità a Matilde. Riguardo al grande magazzino, Milano Moda, sta per aprire. Vittorio si sporge per dare un'occhiata all'interno. Si conclude così la settima stagione del Paradiso delle Signore. Per sapere se Matilde viene a conoscenza della verità durante l'estate, dovremmo attendere settembre.